La stazione di Scanzano Ionico Montalbano Ionico è la stazione ferroviaria di Scanzano Ionico, in provincia di Matera. L'impianto risulta privo di traffico dal giugno 2016. La stazione di Scanzano Ionico Montalbano Ionico, come quella di Nova Siri, è introdotta da un casello che recita la progressiva chilometrica, chilometro 59 più 324. Dotata di due binari ancora attivi ed elettrificati, con rispettive banchine interposte, è in buono stato e recentemente ristrutturata. Risulta abitata al piano superiore del grosso fabbricato, tutto sprangato e riverniciato in giallo. I segnali sono a vela unica, operativi ed accesi, mentre lo scalomerci è diroccato ed abbandonato al suo destino. In uscita dalla stazione lato metà punto una grande costruzione non meglio identificata resta interessante agli occhi del passeggero. Eppure, come si evince, nella stazione non fermano più treni. Basta con queste chiusure dannose, riapriamo Scanzano.